buongiorno sono urbano della sani moreno volkswagen audi di fucecchio vi presento oggi una nuova arrivata nel nostro parco usato si tratta di una jeep gran cerochi dell'anno 2003 si tratta di una cilindrata di 2007 turbodiesel immatricolata autocarro quattro posti quindi autocarro significa che a live esposta fatturabile vi presento un po di carrozzeria che comunque si presenta sempre discretamente bene i suoi cerchi in lega da 17 pollici con le gomme sempre molto molto discrete sensori di parcheggio posteriori però visto che è una macchina veramente economica ci possiamo stare ancora la carrozzeria sempre cerchi in lega il suo frontale vi faccio vedere ora gli interni dove troviamo la tappezzeria completamente in pelle qui vediamo anche la sua griglia per il ragionamento autocarro vi faccio vedere la il bagagliaio viene così quindi ripeto è un quattro posti tappezzeria ancora in pelle un piccolo strappettino laterale ma ripeto anche questo ci può stare visto l'età della macchina bracciolo sedile lato passeggero questo è il suo piscotto molto ben tenuto l'autoradio con il cd clima automatico bizona sedili riscaldabili cambio automatico con in più le ridotte come ben vedete volante multifunzione con il suo cruise control la macchina percorso 228 mila chilometri e l'ultima manutenzione è stata fatta a 218 mila come vedete quindi questa è una vettura come dicevo prima veramente economica la troverete già inserzionata anche sul nostro sito diretto questo è già un pronta consegna quindi già disponibile presso il nostro punto vendita quindi non mi rimane che dire vi aspettiamo per la visione e la prova su strada arrivederci grazie a presto